L'apertura del sistema di aerazione nell'assito del tetto è uguale alla misura interna della copertura del sistema di aerazione. Posizionate la copertura del sistema di aerazione in modo che copra i chiodi dell'ultima fila di tegole posata. Per prima cosa, incollate le tegole con Ico Shingle Stick, quindi inchiodatele esclusivamente in punti che verranno coperti dalle tegole successive. Continuate allo stesso modo procedendo verso l'alto. Terminate con una tegola completa e lievemente rifilata.